E noi su questo siamo d'accordo, però, con l'Associazione Nazionale Magistrati. Cioè la sanzione deve essere processuale, non può essere... Cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice adesso i processi durano quattro anni. Va bene. Poi se non rispetto i quattro anni faccio il procedimento disciplinare al magistrato, peraltro che abbia agito con dolo... Sì, sì, ce la raffisai. Quindi mai. Allora, si tratta com'è nei paesi civili, dove invece esistono, perché la prescrizione ha varie forme, esiste la nostra prescrizione, esiste la prescrizione dell'azione. Negli Stati Uniti d'America, se tu inizi un procedimento, trascorsi per esempio recentemente un caso di estradizione internazionale, trascorsi cinque anni dal fatto, tu non hai iniziato l'azione, non la puoi iniziare più, è chiaro. Quindi se si immagina di dover dare dei tempi certi, bisogna riformare, dare le strutture, ma poi bisogna sanzionare la durata. Cioè, se vai oltre quel termine, o c'è una sanzione processuale, cioè il processo decade, o di che cosa stiamo parlando?